Altovar e Isidorius si stanno preparando ad affrontare lo scontro decisivo della missione tutorial il world builder non deve fare altro che creare due avversari seguendo le regole del tutorial stesso in questo caso io decido di schierare un avversario di grado 3 e un avversario di grado 1 sceglierò quindi un nome e posso chiedere a Altovar o meglio ai personaggi giocanti di Altovar e di Isidorius di dirci come sono fatti questi questi mostri che sto per creare questi avversari che sto per creare questo farà in modo di rendere ancora più vicino il color e quindi il setting del gioco al desiderio del gruppo di tutto il gruppo fatto questo dovete sapere che è un png di grado 3 ha tre stati quindi parte da stato ottimale intermedio e poi c'è il fuorigioco mentre un png di grado 1 ha soltanto uno stato una volta impostati gli stati vado a definire la vulnerabilità la vulnerabilità è fatta da un'associazione di un approccio con uno stile quello che dobbiamo cercare di fare adesso è quello di allenare il gruppo di eroi quindi quello che vi consiglio di fare è di fare in modo che almeno ci sia un png che abbia una vulnerabilità che sia sfruttabile da uno dei protagonisti di questa avventura in questo caso decido di scegliere per il drago verde la vulnerabilità vigore magie della terra che è proprio quella dell'accessorio di Isidorius mentre la vulnerabilità del grado 3 lascerò prontezza magia del fuoco vi faccio notare che ovviamente questa è una scelta che fa il world builder e il vostro scopo è proprio questo cercare di trovare la combinazione migliore per permettere al gruppo di essere in difficoltà e quindi si sforzeranno di affrontare tutto quello che succede ma dall'altro lato li state spronando ad allenarsi a prepararsi ad affrontare poi gli invasori perché ricordatevi che gli avatar sono la vostra unica salvezza inizia la prima fase del round di valutare in questa fase i personaggi giocatore possono parlare tra loro liberamente come se fossero connessi in una chiamata vocale la scelta che dovete fare è quella di agire o prepararvi dove agire significa che voi andrete ad attaccare mentre prepararsi sta significare che vi potenziate perché dovreste scegliere di agire o potenziarvi e in che modo per prima cosa è necessario specificare che dovete assolutamente cercare di trovare una strategia comune perché se tutti i giocatori agiscono i nemici ne uscirebbero potenziati salirebbero di grado oppure modificherebbero quella che è la loro vulnerabilità rendendo i vostri piani completamente scombussolati se invece tutti i giocatori decidono di prepararsi ricordatevi che i nemici non sono stupidi e quindi possono scappare immediatamente dallo scontro scappare immediatamente dallo scontro è un modo che hanno questi nemici per riorganizzarsi ovvero recuperare le forze e riattaccarvi alle spalle in un secondo momento quindi fateci molta attenzione oppure potrebbero addirittura scappare con l'obiettivo della vostra missione e potreste perderla per questo motivo dovrete cercare di costruire insieme una strategia alternata cioè significa che ci sarà qualche giocatore che agisce e sempre qualche giocatore che si potenzia considerando che senza potenziarvi e senza alternarvi in questo modo e collaborare non riuscirete mai a vincere uno scontro anche contro gli avversari che vi sembrano più facili da sconfiggere capito questa informazione ogni giocatore quindi dovrà dichiarare se vuole agire o prepararsi nel suo turno sidorius dichiara la sua intenzione e nel farlo cercherà di giustificare come mette in gioco la sua carriera come mette in gioco il suo approccio e il caso specifico mette in gioco la sua carriera ottenendo un d6 quindi mette in gioco il suo approccio che è vigore e prende il d8 associato quindi mette in gioco il suo accessorio guanti della tempesta un accessorio che sfrutta vigore come approccio preferito e come stile magia della terra isidorius è di grado 1 il drago verde di grado 1 ed essendo di pari grado per avere successo isidorius dovrà avere almeno due incrementi con il singolo incremento che si ottiene con 5 più con il risultato del dado isidorius avendo messo in gioco il la vulnerabilità del drago verde e otterrà di abbassare la soglia di 1 quindi dovrà avere due incrementi con 4 più isidorius tira i dadi isidorius ha ottenuto due incrementi sono sufficienti ad ottenere un successo a questo punto toglie uno stato al drago verde che passa da intermedio a fuori gioco sendo andato fuori gioco isidorius ha ottenuto un successo completo questo gli permette di ottenere grado avversario frammenti in questo caso 1 e intanto segna una crocetta sulla barra della carriera su cuori pieni e ovviamente il drago verde esce fuori gioco altovar nel suo turno di prepararsi ha tre possibilità principali la prima è quella di potenziarsi che corrisponde ad aumentare il grado della carriera la seconda è quella di attivare il potere speciale del suo accessorio che in questo caso sarebbe l'armatura di vento che sarebbe valida per due round sia per il suo avatar che per un altro avatar che sceglierebbe lui la terza possibilità è quella di attivare contemporaneamente sia il potere dell'accessorio sia potenziarsi a livello di grado di carriera in questo caso però l'accessorio di altovar da stato integrò passerebbe a stato danneggiato altovar ha deciso di potenziarsi e quindi otterrà un più uno al suo grado ma fate attenzione il potenziamento non influenza la taglia del dado associato alla carriera e non influenza nemmeno i dadi che permette di rilanciare la carriera quando un personaggio si prepara il world builder è costretto ad attaccare quel personaggio quindi utilizza il drago rosso che non ha ancora mai agito per attaccarlo altovar può solo difendersi altovar dichiara la sua intenzione che è quella di difendersi mettendo in gioco la sua carriera mettendo in gioco il suo approccio e mettendo in gioco il suo accessorio essendo che il grado di altovar 2 e il grado del drago rosso è 3 il suo grado è minore di quello dell'avversario e in questo caso avrà necessità di due incrementi con successo con 6 o più altovar lanci i dadi e ottiene un 6 su un dado da 6 questo è il suo valore massimo per questo motivo il dado ottiene un incremento e in più lo potete rilanciare rilanciandolo in questo caso ottiene un 3 che purtroppo è un fallimento avendo ottenuto un fallimento altovar subisce la perdita di uno stato e contestualmente avendo utilizzato il suo guado e quindi la sua carriera dovrà segnare una crocetta sulla barra dei cuori infranti della carriera inoltre grazie al fallimento ha diverse scelte una è quella di prendere dei crediti l'altra è quella di donare un dado da 8 a un altro giocatore e lui sceglie di fare questo gesto donando un d8 a Isidorius il world builder vedendo come sta andando lo scontro decide di saltare la fase di attacco che comunque è la successiva passando direttamente alla fase dei rinforzi questa scelta è stata fatta perché in effetti il gruppo è già in difficoltà ma ricordatevi che lo scopo vostro e quello del world builder è proprio quello di mettere in difficoltà i vostri avatar ma allo stesso tempo incoraggiarli e aiutarli ad andare avanti è proprio questo per questo motivo che nella fase 5 quella dei rinforzi decide di utilizzare un suo prezioso punto creazione dei due che ha a disposizione per curare altovar un gesto che sicuramente inizierà a sancire una profonda amicizia fra altoval e il regnante inizia in round 2 con la fase di valutare Isidorius dichiara la sua intenzione ottenendo i dadi associati a carriera approccio e accessorio in più aveva un dado aggiuntivo che gli è stato donato da altovar per la precedente azione che mette subito in gioco considerando che ha visto il suo amico altovar in grande difficoltà decide di mettere in gioco il suo legame con lui mettendo in gioco il legame il numero di incrementi necessari scende di uno quindi avrà bisogno soltanto di un solo incremento con successo con 6 più altovar ottiene un solo incremento che gli è sufficiente per ottenere un successo parziale quindi causare un danno al drogo rosso e portarlo da stato ottimale a intermedio inoltre avendo utilizzato la carriera aggiungerà una crocetta a cuori pieni e metterà una crocetta sul cuore pieno a fianco al legame con altovar altovar si potenzia un'altra volta in questo caso ottenendo più tre al suo grado quindi il suo grado totale ora è quattro altovar viene attaccato dal drago rosso altovar mette in gioco la carriera gli approcci e gli accessori per ottenere il pool di dadi da tirare in questo momento il grado della carriera di altovar è quattro mentre quello del drago rosso è tre essendo che il suo grado è maggiore di quello del dell'avversario dovrà ottenere due incrementi e avrà successo con tre o più altovar ha ottenuto un incremento su ogni dado e quindi ha ottenuto un successo eclatante essendo in difesa non causa danni e non causando danni non prende alcun frammento come premio grazie al fatto che ha avuto un successo eclatante potrebbe attivare una delle opzioni possibili tuttavia essendo lui già in ottimo stato ed essendo che anche l'altro il compagno di conquista combattendo in ottimo stato non può attivare gli effetti potrebbe però rompendo uno stato del proprio accessorio attivare il potere speciale della magia del vento ma decide di non farlo anche in questo caso aggiunge una crocetta su cuori pieni a fianco alla sua carriera per il successo che ha appena ottenuto inizia il round 3 è la fase di valutare altovar ha messo in gioco la sua carriera i suoi approcci e il suo accessorio ottenendo ovviamente il pool dei dati da tirare essendo che il suo grado è maggiore di quello del drago rosso avrà successo con due incrementi con tre più altovar ottiene due incrementi che sono sufficienti per avere un successo causa un danno al drago rosso che passa da stato intermedio a fuori gioco e successivamente ha ottenuto quindi un successo completo successo completo che gli consente di ottenere tre frammenti in più segna una crocetta su cuori pieni a fianco alla carriera e lo scontro è finito se questo fosse lo scontro finale del nostro tutorial è in questo momento che gli eroi tornerebbero gloriosi nella città d'inizio in login world e otterrebbero ovviamente una ricompensa ulteriore di quattro frammenti ovviamente tutti i frammenti ottenuti dai vari personaggi avatar possono essere divisi fra i giocatori